Dopo anni è iniziata la fase autorizzativa del progetto di consolidamento della collina sul cui sorge la cattedrale di San Gerlando d'Agrigento e sul cui porge la parte del centro storico della città. Il genio civile di Agrigento ha infatti dato il proprio via libera al progetto definitivo per gli interventi sul colle che sono stati progettati dalla società Tecnital di Verona che dovrebbe consentire la messa in sicurezza definitiva della collina. Ed il prossimo 23 luglio a Palermo è in programma una specifica conferenza di servizi durante la quale tutti i varienti dovrebbero poter esprimere il parere in conclusione e dare il via agli interventi. In che tempi nella regione promettono che tutto potrebbe concludersi davvero in poco tempo? Forse già con un inizio di cantieri nel 2020. I lavori, dice, chi ha potuto leggere le carte si presentano come poco invasivi. Si parla di reggimentare le acque sotterranee e realizzare una rete di micropali che contenga lo spostamento della collina e consentireanno anche di rendere percorribili i sentieri sotto la navata nord. Gli interventi saranno finanziati con i 25 milioni di euro messi oggi a disposizione della rimodulazione del patto per il sud.